L'Aquila Calcio deve portare i libri in tribunale e decretare il fallimento oppure fare una piena chiarezza sulle proprie intenzioni per comunicare se vuole chiudere o meno la stagione sportiva facendo fronte ai pagamenti dovuti. Da parte nostra, come Comune, ci troviamo costretti al forzoso recupero dei crediti che vantiamo che sono notevoli. Parole dure come Macigni, quelle del Sindaco Biondi e dell'assessore allo sport Piccinini che intervengono con una nota dopo la presa di posizioni di ieri di alcuni collaboratori storici. Le dimissioni in blocco di ufficio stampa, segreteria e altri collaboratori hanno lasciato sicuramente uno stralcio doloroso. Persone aquilane che da mesi ormai completamente sole assieme alla squadra e al mister mandavano avanti la gestione del club. Dimissioni che ora lasciano la situazione ancora più nel baratro e che hanno portato anche alla presa di posizione del gruppo organizzato dei Red Blue Eagles e dal gruppo Sporters Trust L'Aquila Me. I gruppi hanno chiesto dignità per i colori rosso-blu e chiedono ora a tutta la città e al Comune di condividere azioni per voltare finalmente pagina. Questa società che ci ha rappresentato per sette anni in maniera non dignitosa, scrivono, è ormai giunta al capolinea. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro pubblico nel quale parteciperà anche il Sindaco Biondi.